Sono Mirko Pagani, lavoro per il comune di Somma Lombardo nell'ufficio servizi sociali e io insieme agli altri miei colleghi abbiamo creato BibioLab, il design dell'innovazione sociale. È un ufficio di cultura ed educazione digitale all'interno della biblioteca di Somma Lombardo e per far questo ci siamo appoggiati a chi insieme a scuole, realtà aziendali e del territorio della provincia di Varese già da tempo realizza queste attività con le stampanti 3D e altre tecnologie innovative, cioè FaberLab Varese di Confartigianato Varese. BibioLab è uno spazio di apprendimento della cultura digitale e come Consorzio Unison di Gallarate che qui rappresento in collaborazione col comune di Somma Lombardo è dedicato soprattutto ai giovani, preadolescenti e adolescenti. È uno spazio in cui accompagniamo questi ragazzi a costruirsi un futuro tramite la conoscenza delle nuove tecnologie e di quello che il futuro potrà fargli attendere. Per fare questo noi avevamo la visione pedagogica, abbiamo avuto bisogno del supporto di FaberLab Varese e di Confartigianato in modo da poter avere le nozioni tecniche e competenze per poter approdare in questo modo con i ragazzi. Grazie a tutti!